Sicuramente la questione di Ita Lufthansa è una questione che è stata sottoposta al Commissario Gentiloni, particolarmente al Ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro e la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso. Cioè la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione al problema Ita, la blocca. Quindi noi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta. E su questo è stato interessato anche il Commissario Gentiloni.